Ciao da Filippo Giannini di Trading Facile. Se sei interessato a conoscere quali sono le aspettative di ripresa per i mercati nella seconda parte dell'anno e quali sono gli asset sui quali puntare maggiormente io ti invito a partecipare al prossimo webinar gratuito in collaborazione con ActiveTrades. L'appuntamento è per giovedì 9 giugno alle ore 18 quindi mi raccomando non mancare ti aspetto lunedì 9 giugno alle ore 18.